Un missile, no? Mettano un cane, una scimmia e un carabiniero, no? Sicché dalla base, da Houston, li chiamano, no? Pronto Bobbi, pronto Bobbi, 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 mi senti? Allora Bobbi, adesso premi il pulsante rosso, e Bobbi sai, premi il pulsante rosso. Bravo Bobbi, va a posto. Cida, vieni te, cida. Cida, mi senti? Cida, tira la leva verde. Cida, tira la leva verde, no? Brava Cida, perfetto, vai a posto. Ha puntato i sette, sì? Testa qua non tocca a nulla, eh? Ragazzi, documenti? Non ce l'abbiamo. Non possiamo uscire senza documenti.